bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio l'ultimo di quest'anno dove parleremo di calcio chiaramente non è un episodio di pronostici perché il campionato è finito però io in questo episodio voglio dare un voto a ogni squadra della serie a di quest'anno perché seriamente voglio dire una mia opinione su cosa poteva fare la squadra e dove è arrivata partiamo subito dal basso Pescara il Pescara puntava la salvezza io da subito diciamo dalle prime giornate ho capito che il Pescara non ci sarebbe arrivato la salvezza infatti finisce l'ultimo con 18 punti il voto della stagione del Pescara è 3 perché ha fatto proprio pochissimi punti 18 punti in 38 giornate non sono niente e poi le diciamo le partite che ha vinto sono con il Palermo quindi credo se non ho sbaglio poi vabbè adesso non ho bene la classifica reale comunque il Pescara per me l'obiettivo era la salvezza non lo centra e fa anche veramente una figura di merda perché fa veramente troppi pochi punti e quindi per me la sua stagione valterà Palermo fa 26 punti e retrocede tipo tre o quattro giornate prima della fine del campionato e il voto della sua stagione è 4 aumento di uno dal Pescara solo perché ha fatto un po' più di punti ma anche lui come si meritava l'anno scorso di retrocedere si merita anche quest'anno di retrocedere perché l'anno scorso non è retrocesso solo per l'accordo col Verone io me lo ricorderò sempre quello e hanno fatto retrocedere il Carpi con l'accordo per il Verona perché il Verona se retrocedeva al Palermo prendeva meno soldi se retrocedeva il Carpi prendeva più soldi quindi hanno fatto apposta visto che al Palermo doveva vincere e se noi vincevamo il Palermo pareggiamo perdeva passavamo noi cioè stavamo in serie a noi e il Palermo giocava a Verona e quindi ha vinto da 3 a 2 a Verona e quindi il Palermo come meritava di retrocedere l'anno scorso merita anche quest'anno e per me la sua stagione è 4 Empoli, io all'Empoli gli do un 5 e mezzo semplicemente perché è rimasto in zona salvezza dall'inizio della stagione, l'obiettivo chiaramente era la salvezza e non è riuscito a salvarsi, ha fatto 32 punti, è retrocesso per 2 punti e l'ha recuperato il Crotone all'ultima giornata quindi per me è un 5 e mezzo solo perché ha perso molti punti nelle ultime, cioè a metà del campionato se non sbaglio Empoli ha perso molti punti a metà del campionato poi nelle ultime giornate si è svegliato però comunque un 5 e mezzo perché comunque si meritava la fine di salvarsi perché era rimasto sempre nella zona salvezza Crotone invece gli do il 6 perché comunque è rimasto sempre nella zona retrocessione è rimasto nella zona retrocessione, l'obiettivo è la salvezza, lo centra e fa 2 punti in più dell'Empoli, 34 e quindi un 6 Genova io gli do 4 semplicemente perché il Genova aveva obiettivi diversi non salvarsi chiaramente la penultima giornata come ha fatto, ha fatto 36 punti e si è salvato la penultima giornata quindi l'obiettivo non era sicuramente salvarsi la penultima giornata e rischiare così tanto quindi gli do un bel 4 Bologna che fa 41 punti, si salva molto prima però a mio parere il Bologna poteva aspirare a un decimo posto non vorrei dire ma a mio parere poteva aspirare a un decimo posto e comunque alla sua stagione gli darei un 6 un 6 abbastanza perché alla fine c'entra la salvezza e basta Chievo come tutti gli anni c'entra la salvezza e non fa più niente perché Chievo dopo quando arriva la salvezza anche non matematica ma diciamo morale perché dice tanto questi guardi fanno i punti dopo giochicchia cioè gioca perché deve giocare e quindi io gli do anche lui un 6 perché alla fine non fa niente di che Udinese che arriva a tredicesimo a 45 punti molto meglio dall'anno scorso che è arrivata a 39 un punto in più, no 38 a pari punti col Carpi mi sembra se non sbaglio non lo so, comunque non me lo ricordo, era comunque 38-39 quindi l'anno scorso ha rischiato molto in quanto ha perso anche con noi l'ultima giornata e quindi quest'anno ha fatto una grande stagione molto meglio di quella dell'anno scorso quindi gli do un bel 7 l'obiettivo del Sassuolo non era sicuramente di arrivare al dodicesimo quindi una stagione disastrosa e ha giocato, ha fatto una buona figura in Europa ma niente di che neanche lì e quindi il Sassuolo veramente mi ha deluso quest'anno perché almeno quinto, sesto, dico settimo, almeno ottavo ma prima, sopra la decima posizione, non sotto quindi per me la sua stagione è da 5 Cagliari che invece fa un grande salto di qualità fa 47 punti, arriva a un dicesimo per me la sua stagione dà un bel 7,5 semplicemente perché l'obiettivo non era, diciamo cioè era arrivare a metà classifica, lo c'entra e alla fine è una buona stagione Sampdoria che arriva a decima, 48 punti buona stagione anche per la Sampdoria per la Sampdoria gli dà un 7,5 anche a loro perché alla fine l'obiettivo sì era arrivare a metà classifica quindi obiettivo centrato e niente di che Torino che arriva a nono, per me poteva aspirare ad arrivare di più quindi gli darei un 6, diciamo un 6,5 dai e fa 53 punti, però per me poteva aspirare almeno all'ottavo, settimo posto cioè più che altro dico poteva aspirare all'ottavo posto perché il Torino è a 53 e la Fiorentina è a 60 quindi alla fine sì, voi dite ma vabbè è una posizione, sì però ci sono tanti punti di mezzo quindi alla fine poteva aspirare a fare di più Fiorentina che arriva a ottava Fiorentina che alla fine, a mio parere la sua potenzialità quest'anno erano queste magari se vuoi poteva arrivare settima sopra l'Inter, non ci arriva di due punti una stagione da 7 e basta Inter stagione, altra stagione disastrosa che a mio parere prende un bel 5 perché non puoi arrivare settima ancora cioè a mio parere finché non tornano le milanesi la Juve continuerà a vincere questo è sicuro perché Roma e Napoli possono giocare bene ma al massimo, dico al massimo possono vincere uno scudetto ogni tanto ma di sicuro non ne vincono 3-4 di fila e quindi finché non tornano le milanesi noi, cioè a Juve, continueremo a vincere a mio parere e poi magari l'anno possono vincere Napoli cosa non è che io non posso saperlo però comunque Inter stagione disastrosa io direi un 4 perché non puoi arrivare a settima ancora nemmeno in Europa neanche in Europa League Milan che c'entra l'Europa League nelle ultime due giornate quindi alla fine ha fatto un gran recupero almeno arriva in Europa almeno e quindi al Milan si salve direi un 6 e mezzo Lazio che invece fa una grande stagione arriva a quinta dentro l'Europa piena dentro l'Europa piena arriva a più a più sette dal Milan se non sbaglio se non sbaglio a più sette dal Milan quindi arriva a quinta in quinta posizione pienamente e per me veramente veramente bellissima stagione della Lazio gli darei un bel 8 Atalanta che fa una grandiosa stagione e si merita veramente questo quarto posto l'Europa al quarto posto arriva al quarto posto con 72 punti due punti di più della Lazio all'Atalanta gli darei un bel 9 perché veramente ha fatto una grande stagione specialmente col Papu Gomez che spero non vendano perché se lo vendono hanno praticamente perso l'Europa cioè non dico che arriveranno in finale vinceranno l'Europa però almeno andare un po' avanti se vendono il Papu non ci vanno avanti Napoli che arriva a 86 punti è un punto dalla Roma Napoli che fa una stagione in cui l'obiettivo è il secondo posto non lo centra per un punto vabbè comunque gioca bene rimane in partita rimane anche se il campionato era già chiuso però poteva vincere il campionato ancora alla penultima giornata quindi alla fine rimane in gioco una buona stagione gli darei un 8 Roma che arriva a seconda un punto in più dal Napoli gli darei un 8 anche a lei perché alla fine Roma e Napoli ci sono equivalse in questo campionato a mio parere sì infatti la distanza è solamente di un punto fra loro quindi per me gli darei un 8 anche alla Roma Roma che fa molto bene ad arrivare al secondo posto perché a mio parere in questo campionato aspirare al secondo posto andava bene perché la Juve a mio parere era superiore non lo dico perché sono juventino lo dico semplicemente perché io lo penso poi voi potete pensarla come volete magari anzi scrivetelo nei commenti senza offendere grazie magari per scambiare qua un po' di opinioni Juventus che arriva prima a 91 punti fa molti meno punti delle stagioni scorse e chiude il campionato molto tardi rispetto alle scorse stagioni comunque va bene perché c'era la Champions in ballo oggi è l'8 sto registrando proprio oggi ve lo carico già oggi questo e abbiamo perso la Champions e per me è stata una grande delusione però sinceramente stasera c'è il Carpi la finale playoff quindi mi interessa più di questa finale a me più che la finale di Champions però per me perdere quest'anno la finale è stata una grande delusione ci siamo confermati perdenti in Europa perché è vero noi siamo perdenti in Europa e basta questo va detto questo è non puoi perdere 7 finali non puoi non puoi non puoi già 6 sono troppi pensa poi 7 siamo dei perdenti in Europa noi spero ci riproveremo l'anno prossimo io vi giuro l'anno prossimo preferisco retrocedere in serie B ma vincere la Champions cioè buttare tutte le forze sulla Champions perché non è possibile noi dobbiamo vincere una Champions comunque parte quello io la Juve do un 7 e basta perché alla fine ha vinto il campionato ha vinto la Coppa Italia ok e sono sempre le stesse due cose che vinciamo mi sono rotto i coglioni di vincere i campionati io voglio vincere la Champions mi va bene perdere un campionato ma voglio vincere la Champions quindi io gli do un 7 solo perché ha vinto il campionato e la Coppa Italia ma se vinceva la Champions chiaramente gli davo molto di più comunque questo episodio finisce qui queste erano le mie conclusioni di questo campionato e nel prossimo campionato faremo di nuovo i pronostici per tutta la stagione prima che inizi il prossimo campionato farò un video dove stilerò il mio pronostico sulla classifica cioè circa fra le prime posizioni e le ultime veramente non a metà perché non è che posso immaginarmi il Cagliari arriva undicesimo il Sassuolo arriverà tredicesimo cioè questo non lo posso dire e quindi vabbè per questa stagione è finita la stagione dei pronostici o di questi video sul calcio e forse usciranno nei prossimi giorni dei video che ci tengo a fare sul Carpi ci tengo a farli per per dire il mio pensiero personale su delle cose che poi vabbè ve ne parlerò nei prossimi video e niente questo video finisce qui condividete con i vostri amici lasciate un like e un commento iscrivetevi se non siete iscritti e niente io vi ringrazio ciao a tutti ciao a tutti